Mezzo primo tempo e l'intera ripresa nel giorno dell'Immacolata per proseguire, bel passo atletico 94, sospese per infortunio all'arbitro Azzolina. Da allora nessun cambiamento in classifica, Biancazzurri Quinti sempre dietro alle corazzate, tra cui quella catanese che è un gredino più su e insegue la vetta. Al Raiti di Biancavilla, punto di ripartenza, il minuto 28, risultato 0-0, breve riassunto della fase 1 di questa sfida, bel passo vicino al vantaggio in tre episodi, una volta con Dumitrasco che coglie la traversa, una con Strano che in diagonale sfiera il palo, un'altra con Dumitrasco ipnotizzato da Di Benedetto proprio a qualche secondo dall'infortunio all'arbitro all'epoca designato, che oggi invece risponde al nome di Marino di Acireale. Dumitrasco assente per l'occasione, auguri per il battesimo della piccola di Bomber Marius, Peppe D'Antoni affida le chiavi dell'attacco al lupo e capitana salvo Nicolosi. Giampiero Vittorio cerca la sorpresa dalla distanza ma paga a caro prezzo questo destro muscolare, un risentimento lo costringe al forfè dentro Sciacca poco prima del 40. Una mossa vincente perché a tre dall'ingresso in campo il neo entrato si piazza al centro dell'attacco al termine di un lungo rinvio di porto, di una sponda di lupo e di uno spunto laterale con assist in mezzo di Arturo Strano. Sciacca in due tempi manda avanti il bel passo che già nei minuti precedenti aveva accennato a una supremazia territoriale nei confronti dell'Atletico. Quarta rete in stagione per l'autore del gol, gol pesanti come quello al Real Aci in fin di partita e oggi fondamentale in questo scontro diretto. Reazione ospite all'extra time, Borzi trova lo spazio per battere dalla distanza magistrale, porto in chiusura, blinda la porta e si va al break. Sull'1-0 bel passo. Atletico sul filo dei nervi a inizio ripresa, proteste dalla panchina e rosso per il tecnico Lino Signorelli. Bel passo arrembante in avanti Nicolosi dalla bandierina, lupo sulla linea due volte, raddoppio mancato. Al decimo in fotocopia stessa dinamica ma stavolta col raddoppio che si materializza. Gnami lupo, centra il bis, fa 2-0, secondo col consecutivo per il centravanti Biancazzurro, quinto complessivo di carattere autoritario. Il bel passo in meno di un'ora va su di giri e sul cielo delle raiti e che già la gioia è incontenibile per una prestazione perfetta e senza sbavature sin qui. L'Atletico cerca di salvare il salvabile ma trova ancora sulla strada Porto che dice nuovamente no a Borzi, mentre mazza muto su punizione sfiora il legno. Idee appannate sotto porta invece per il neoentrato Sheriff. Dall'estremo Biancazzurro partono lacci che consentono di andare direttamente in porta, lupo, prolunga, Michalizzi un po' prevedibile su Ravasco. E il primo di una serie di attacchi dopo qualche minuto di arretramento va il 3-0 che chiuderebbe definitivamente la pratica, non arriva. Strano per Cenza Bella che strappa palla al limite con la collaborazione di Michalizzi e suggerisce in mezzo dove strano. a questa grandissima chance, risultato, tiro alto, perla dall'out, Michalizzi stop, spalle alla porta e destro alle stelle. Ultimo quarto d'ora di fuoco, Porto si guadagna il 9 pieno in pagella frenando Manuli. E a questo punto sembrano tramontate le speranze atletiste di una remontata, sembrano perché anche quando Sheriff manda fuori dal campo questa palla a gol non sembrano esserci più le basi per clamorosi colpi di scena, tranne il complicarsi la vita che rappresenta sempre un'incognita da non sottovalutare. Un errore tra i pochissimi di giornata rimette in corso i catanesi a 5 dalla fine, ne approfitta Ilardi che di esterno mette in condizioni aeree. Borzì per il 2-1 che accende la suspense da qui all'interminabile, extra time di 6 minuti. E' il momento in cui l'atletico fa salire le quotazioni del suo assist man subentrato ma non riesce a pungere. L'ultima istantanea con annessa occasione per fare centro di marca belpassese si sviluppa da un corner di Cenza Bella, da un appoggio di mannea dalle parti di Sciacca che si divora. La doppietta personale e soprattutto alimenta la sofferenza del lungo recupero. Da qui l'urlo liberatorio per la quarta vittoria consecutiva, quarta come la posizione in classifica. Dopo il clamoroso K.O. interno con l'armerina e il bel passo è in scia positiva da un mese e da stasera è a meno uno dall'atletico. Terzo alle porte c'è il mister bianco fuori e le reali possibilità di scalare ancora la classifica.